cari amici telespettatori benvenuti a quest'ultima diretta da questo posto direi straordinario, un po' sfortunato che è l'Emilia Romagna. Abbiamo fatto queste puntate in questo nostro studio particolare ma da domani torniamo nel nostro studio rosso nero dove mi avete seguito per anni e anni e quindi quest'oggi iniziamo questa puntata con un brano del 1966 barra 67 che è stata anche la sigla di alto gradimento con gialli buon compagni e la sigla era bandiera gialla quindi amici telespettatori ecco voi giorni pettenati con bandiera gialla grazie 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 amici dedicati a tutti i colori che amano il dermis 60 grazie 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 di essere stati ragazzi, giovani, e di avere avuto già la nostra età. Finché vedrai spegolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla e il tempo volerà. Tu saprai quando c'è bandiera gialla, che la gioventù è bella, che il tuo cuore batterà. Finché vedrai spegolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla e il tempo volerà. Finché vedrai spegolar bandiera gialla, che la gioventù è bella, che il tuo cuore batterà. Siamo noi, siamo noi bandiera gialla, ed è qui che qui si balla e il tuo cuore batterà. Siamo noi, siamo noi bandiera gialla, ed è qui che qui si balla e il tuo cuore batterà. E allora amici, cominciamo questa puntata e parliamo di Matilda Lorenti, ex-sfiatrice che purtroppo è stata uccisa in un incidente durante un allenamento. Vogliamo ricordare questa straordinaria figura dello sci e quindi insomma ci uniamo al dolore della famiglia. Speriamo che non venga dimenticata e detto questo parliamo di sport perché il Milan è ancora caduto in casa contro il Napoli. Devo dire che certe cose non sono andate bene perché comunque il gol di Morata secondo me non era da annullare, come secondo molti altri. però non voglio fare del vittimismo, non voglio salvare sicuramente i nostri ragazzi, abbiamo le nostre colpe. E' giusto assumersi le proprie responsabilità quando succedono certe sconfitte e quindi insomma un po' stato processo ancora Fonseca perché insomma secondo me ha sbagliato qualcosina. Detto questo amici passiamo a fare gli auguri a tutti coloro che fanno gli anni in questo tema di ottobre 2024. Salutiamo Carla Levi, salutiamo tutti gli altri amici ed ora passiamo ad un'altra canzone. Parliamo di una canzone di Rocky Roberts, stiamo parlando di questo successo che sicuramente ricorderete. Sto parlando di questo tremendo 1968. Un po' di rock and roll, un po' di ballo, signori e signori, il ricordo del grandissimo Rocky Roberts. Non mirollerò! Con una come te Spesso io mi domando Se per venirti dietro So perdendo La mia reputazione Di tremendo Ancora non lo so Sono deciso più che mai Per insistere con te Non mi voglio Con una cireca Forse se crede una più di me Con tutte le ragazze Sono tremendo Le lascio quando voglio E poi le ripendo Nessuna mi resiste Ma mi avendo Con una come te Sondage cheese o puke mai a resistere con te non mi pare io con me potesse tre andate più di me con tutte le ragazze sono pimenti te lascio quando voglio e voler riprendo nessuna mi resiste ma mi rendo con una come te con tutte le ragazze sono tremendo con tutte le ragazze sono tremendo con tutte le ragazze sono tremendo le ragazze sono tremendo e allora dopo questa canzone ci fermiamo per qualche secondo di pausa e poi torneremo con tanti altri argomenti perché comunque ce ne sono tanti questa sera ci sarà la nuova puntata di io canto Zemio Reishu e ne vedremo delle belle ma ora ci fermiamo per un minuto e ora ritorniamo dopo il mini sport e salutiamo Ernesto Scantulla che come sempre mi segue lo salutiamo in chat e lo ringrazio ed ora andiamo con il prossimo e ultimo bravo che si intitola non vi dico come si intitola altrimenti non lo lo capite subito però è una sorpresa nel senso che è un cavallo di battaglia di un famosissimo cantante che tutti quanti abbiamo conosciuto e da signori non lo capite Direttamente dal 66 riderà di Little Tony, signori Musica. Direttamente dal 66 riderà di Little Tony, signori Musica. Direttamente dal 66 riderà di Little Tony, signori Musica. Direttamente dal 66 riderà di Little Tony, signori Musica. Direttamente dal 66 riderà di Little Tony, signori Musica. Ma se tu l'amerai un po' meno di me, ma se tu cambierai e un altro uomo sarai, ma se tu uscirai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò e la riprenderò, riderà, 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 tu farla ridere perché... Ed ora amici telespettatori, dopo queste canzoni abbiamo terminato la nostra diretta qui del centro Cardinal Ferrari di Punta Nellato. Vediamo appuntamento, come al solito, nelle nostre dirette in venito dalla Stancia Rossevera. E quindi vi salutiamo e salutiamo tutti gli amici del CCF.